Buongiorno a tutti da Escursione a Gogo, oggi mi trovo ad affrontare la cima di Vallevona, 1813 metri, con partenza da Pereto, precisamente dal santuario della Madonna dei Bisognosi. La vetta è facilmente raggiungibile con una lunga e spettacolare cresta che regala splendidi pannorami dai Sibillini ai Monti della Marsica. Il percorso ha una lunghezza di 14 chilometri e un dislivello positivo di 850 metri circa. L'escursione per chi non è allenato è un po' faticosa ma molto appagante per il panorama in cima, per la presenza di grifoni in volo e per alcuni faggi meravigliosi e molto grandi. Dopo circa 15 minuti di cammino si apre uno scorcio su Pereto, un piccolo borgo invighiato su uno sperone di roccia ai piedi del monte Fontecellese, nel territorio della Marsica. Questo paesino sorge nella Valle del Turano e ciò che lo caratterizza è il castello medievale, costruito nel 1096. Il panorama qui è stupendo, come vedete, rocca di botte, là dietro i Monti Ruffi, Monte Rotondo, Monte Macchia, Monte Guadagnolo giù in fondo, Camerata Nuova, dietro ci sono i Sembrui. Monte Costa Sole giù in fondo. Si riconoscono Monte Cervi e Monte Navegna, quindi con tutto il gruppo della riserva del Navegna Cervia. Giù in fondo il Terminillo e di qua abbiamo Monte Fonte Cellese, conosciuto per la presenza di grandissimi faggi secolari e alti, chiamati i Giranti del Fonte Cellese. E proseguiamo, Monte Castellamato, Colle Faito e qui dietro Monte Pelato. Come si riconosciuto per la presenza di grandissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.